Abbiamo anche i cubisti ragazzi, cubiste, e vai, che gambe, che gambe, ohè, dimensivo il tuo, cosa, non è finita ragazzi, altra, tenete altre mani, altre mani al rumore, porto. La mano è migliore, non siamo lontani, possiamo toccarlo, senza le mani. Mani, mani, mani. Uh-uh, uh-uh, eh-huh, eh-oh, 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 eh-oh. Alziamo le mani, marchiamo il hiệno. Ciao, diolarissimi, vai, che pista, che pistaają phiacinata, Abbiamo una pista spettacolare!